Salve a tutti, oggi è l'ultimo video che faccio su questo gioco Lagon Paradise Oggi trattiamo l'argomento che me l'hanno chiesto in molti per quanto riguarda il mercato Come funziona realmente il mercato, ok? Allora, il mercato come funziona? Facilmente, basta cliccare sul mercato Ok? Ci dice praticamente, andiamo su commercio prima di tutto Ecco, ci dice il commercio Ecco, ci dice il commercio Allora, sulla destra, sulla nostra destra abbiamo i tre prodotti che il mercante Aconi ci può dare Allora, il mercante Aconi ci può dare questi prodotti Questo prodotto qua, questo prodotto qua e questo prodotto qua A secondo del prodotto che noi vogliamo, vogliamo ottenere Per esempio, abbiamo bisogno di 10 di questi, di questi oggetti Che non so neanche, non ci si chiede neanche come si chiama su questo oggetto Ok, di questi, di questi temi qua E ne abbiamo bisogno, per ipotesi Ne abbiamo bisogno, va bene, ne abbiamo bisogno tutti 250, per ipotesi Per ipotesi, ma è normale Cioè io lo faccio tanto per 250 Ok, come potete vedere la bilancia è a suo favore praticamente Cioè noi non stiamo dando niente in cambio Quindi praticamente, se la bilancia è a suo favore come sta qua Significa che praticamente lo scambio non potrà mai avvenire Per avvenire questo scambio Dobbiamo, dobbiamo dare un, dobbiamo scambiarlo con un valore Allora, l'unici, l'unici prodotti che possiamo, diciamo, attualmente dare È questo, diciamo, questo oggetto qua Ok, ce ne abbiamo 100 Volendo, ne possiamo scambiare 100 Lo mettiamo 100 No, aspettate, scusa Ok Come potete vedere, lo scambio non può essere fatto Lo sapete perché? Perché praticamente Allora, il bene, il bene in questione Vale 3,90 C'ha un valore di 3,90 Ok? Questo qua c'ha un valore di 3,90 3,90 per 250 fa un prezzo di 975 Noi, noi di valore, eh Noi di valore che abbiamo dato Siccome è 4,75% Abbiamo dato 475 Quindi praticamente noi abbiamo dato Molto ma molto di meno Rispetto a quello che noi vogliamo praticamente E quindi praticamente questo scambio non potrà mai, mai, mai Avvenire L'unica cosa che possiamo fare O procurarci uno di questi quattro prodotti Che ci dice praticamente così Praticamente incrementiamo il prezzo Perché noi qua possiamo anche incrementare ovviamente il prezzo Più mettiamo Ogni prodotto, per esempio Questo prodotto qua ci vale 4,75 Quest'altro prodotto ci vale 14,80 Quest'altro prodotto ci vale 3,75 Quest'altro prodotto vale 4 Per esempio questo valore di questo oggetto C'ha un valore di 3,90 Infatti se fai 3,90 per 250 fa 975 Allora per acconsentire Io me lo faccio tanto perché devo anche chiudere Per acconsentire questo scambio Dobbiamo praticamente diminuire Il Gli oggetti Come si fanno a diminuire gli oggetti? Allora, prima di tutto Bisogna cliccare qui Il primo tasto E vi si compare di nuovo questa scritta Allora, praticamente abbiamo 975 Allora, cominciamo a diminuire Ok? Cominciamo a diminuire Non lo so, per esempio mettiamo 200 Per ricordo Mettiamo 200 200 Ma secondo me è ancora tanto Come la vedo io Mettiamo 150 Ok? Vediamo se si può fare lo scambio No Non può essere fatto ancora lo scambio Perché? Perché noi offriamo prezzo nostro 475 E il prezzo suo È 585 Quindi praticamente dobbiamo Dobbiamo diminuire Allora andiamo a diminuire Che ne so Per esempio togliamo la T10 20 Ok? Ecco qua 507 E non lo possiamo ancora farlo Perché il prezzo che noi stiamo dando È 475 Il prezzo di valore di questo oggetto È di 507 Noi per esempio poi Giustamente Diminuiamo Per esempio Che ne so Per esempio ce ne vogliamo solo Abbiamo deciso di comprarne solo 50 Di questi prodotti Ok? Ok? Sicuramente ce lo fa fare Giustamente il contratto Però Dobbiamo anche valutare Allora 50 Allora come potete vedere La bilancia è a nostro favore Perché noi stiamo dando Un valore di 475 E lui E lui Ci dà 195 Per ovviamente Abbilanciare questa cosa O diminuire Dobbiamo diminuire Gli oggetti che possiamo offrire Giustamente Allora per diminuire Si clicca lì Si clicca E si diminuisce Mettiamo seleziona Dobbiamo diminuire ancora di tanto Ci siamo quasi Ecco No Dobbiamo andare ancora qualcosa in più Due in più Perché dobbiamo Ecco così Lo scambio Per esempio Si può fare così Fammi vedere Perché questo è 475 Giustamente Che se noi mettiamo qua 41 Di oggetti Mettiamo seleziona Ovviamente Va a suo vantaggio Quindi praticamente Noi diamo 194 e 75 Il nostro valore E il valore del mercante È 195 Quindi praticamente Lo scambio Non può essere fatto Il valore deve essere Sempre superiore a noi Noi dobbiamo avere sempre Un valore un poco Superiore a noi Dobbiamo stare attenti Su questa cosa Perché Sbagliano Allora per esempio Noi mettiamo Per esempio No per ipotesi Noi mettiamo anche 66 No E mettiamo scambio Noi ce lo fa fare anche Lo scambio Però noi siamo Dei scemi A fare questo scambio Perché Noi abbiamo un valore Molto ma molto esagerato Perché noi abbiamo Un valore di 313 Il prezzo di valore Che ci sta dando È 195 Quindi Quindi praticamente È molto ma molto alto Quindi ci conviene Ovviamente diminuire Fine quando Allora noi diminuiamo Per esempio Diminuiamo 256 Andiamo 45 44 Andiamo Un altro po' Dobbiamo dare a forza 42 oggetti 42 Ok 42 è il peso ideale Perché? Perché noi offriamo 199 e mezzo E lui ci offre 195 Diciamo che È equilibrato Siamo equilibrati Perché 395 Perché pure se noi Mettiamo un punto in più Noi andremo molto di più Rispetto a lui Se mettiamo un punto in meno Andiamo a 4,75 in meno Quindi praticamente 199 Meno 4,75 Andiamo molto in meno Quindi praticamente Non ce lo fa fare lo scambio Il valore Il prezzo Deve essere sempre Un po' superiore Rispetto a quello che ci offre Se noi per esempio Poi vogliamo 19 Vabbè Noi vogliamo 50 di queste Ce ne serve solo 10 Di questi qua Giustamente Per ipotesi E ci serve giusto Un altro 20 di queste Per ipotesi Ok Giustamente il valore È di 274 Ok Giusto È di 274 Allora Dobbiamo a forza aumentare Allora lo scambio Non potrà mai essere fatto Allora Tendiamo ad aumentare Clicchiamo qui Giustamente Nello scambio Ok Dobbiamo Dobbiamo ancora aumentare Un altro poco 270 Ok Perfetto Allora Sapete perché 58 È il numero perfetto Perché Noi vi spiego il motivo Perché Perché se noi Allora Se noi andiamo Allora Prima di tutto il valore È 275 274 Quindi praticamente Ci abbiamo Solo un punto e mezzo In più Ok Se noi andiamo a diminuire E andiamo a 57 Lo scambio non può essere fatto Perché Noi ci abbiamo di valore 270 E lui ci dà Di valore 274 Se noi andiamo a 59 E diamo un surplus in più Noi ci abbiamo Praticamente Un vantaggio Di Praticamente Di 6 punti E praticamente È È un po' in più Praticamente Giustamente Voi dovete Dobbiamo sempre equilibrare Allora Clicchiamo qui sopra E andiamo a equilibrare A 58 E si va a equilibrare Quindi praticamente Il prezzo giusto Di questi tre oggetti È da scambiare Con questo Praticamente Oggetto Che c'ho Perché c'ho Solo questo oggetto Da scambiare Ma volendo Si può scambiare Anche altre cose Come Anche questa cosa qui Ma Per farvi vedere Possiamo ovviamente Perché questo qua Ci dà un valore Di 4,75 Ovviamente Più l'oggetto Che noi stiamo Trattando È più difficile Da farlo Ovviamente Il valore Che Che avrà È molto più ampio È normale Questa È normale La base Giustamente È questa situazione Molto ma molto facile Non ci vuole nulla Cioè È molto molto semplice La cosa fondamentale È sempre di ricordare Che il prezzo Allora Ricapitolando Ve lo faccio vedere L'ultima volta Allora Ricapitolando Bisogna cliccare Su commercio Ok Una volta che andiamo A cliccare Sul commercio Abbiamo i nostri prodotti A sinistro Questi prodotti A sinistra Come potete vedere Qua nella Nel Nella Tra 4 ore Circa Verranno Ovviamente Il commerciante Vuole altri tipi Di prodotti Altri tipi di prodotti Vuole il commerciante Per scambiarcelo Ok Quindi praticamente Se noi non li abbiamo Quei prodotti Ok Dobbiamo attendere Le 4 ore Che Per averlo Giustamente Questo prodotto Per esempio Questo prodotto qua Per esempio Dovebbe essere La struttura Di pietra Per ipotesi No La struttura Di pietra Che si può fare qua Giustamente Lo strumento Di pietra Che sarebbe questo Ok Ve lo faccio pure vedere Per esempio Metto per esempio Scambio Ok E abbiamo trattato Lo scambio Allora Per ipotesi No Noi per esempio Vedi Come potete vedere Noi Noi qua abbiamo 10 10 di scambio Però noi Se noi andiamo a selezionare E clicchiamo qui Aspetta Clicchiamo qui Ecco E andiamo a selezionare 10 Ok Giustamente Ci abbiamo un valore Un valore Di 148 Allora quindi Noi possiamo Comprare Fino a 100 A 148 Come noi stiamo facendo La spesa Allora Quando noi andiamo a fare La spesa Raga Quando noi andiamo a fare La spesa Bisogna sempre portare Un po' di soldi in più Oppure dovete Cioè Allora Allora il commerciante Non ci fa Giustamente Giustamente Però in questo caso Il commerciante Vuole Vuole lui qualcosa In più Vuole giusto Qualcosini in più Ehm Ehm Il commerciante Giustamente Allora In questo caso Ci abbiamo Un 148 E noi decidiamo Praticamente Che ci servono 30 di questi oggetti 30 di questi oggetti E basta Ok Allora Se noi vogliamo Solo questi 30 oggetti Prima di tutto L'or Luce ha un valore Totale Di 102 Se ci abbiamo Facciamo l'ipotesi Di avere solo questo Di valore Ok Dobbiamo diminuire Perché 148 A 102 Dobbiamo diminuire Allora Andiamo a diminuire Ecco Questo è lo scambio giusto Lo sapete perché È lo scambio giusto Perché 7 7 C'ha un valore Di 103 E 60 Il prezzo È di 102 Se noi andiamo Qua a diminuire Andiamo a 6 Abbiamo 88 E 80 Praticamente E il valore Che c'hai A destra È molto più Grande Di 88 Di 88 E 80 Quindi Praticamente Dobbiamo aggiungere A forza Allora Se noi mettiamo Aggiungi Abbiamo il prezzo Corretto Però se per ipotesi Noi mettiamo 8 Noi abbiamo 118 C'è praticamente Abbiamo Voi dovete sempre fare La sottrazione 118 In moda Facciamo un esempio Noi abbiamo 7 di questi E 20 di questi Ok Abbiamo un valore Di 198 E 60 Ok Noi possiamo Comprare 198 E 60 Come fare A capire Come fare A capire Che Per scambiare Bene Sto oggetto Allora Dipende Dipende Allora se Ci serve Questo oggetto Qua Dipende Cosa ci serve Allora se non ci serve Questo oggetto Andiamo a decrementare Solo questo oggetto Allora se per ipotesi Ci serve questo oggetto Qua Non ci serve Questo oggetto Andiamo a decrementare Quest'altro oggetto Allora andiamo a decrementare Per esempio Un po' di questo valore Ok Per esempio Non ci serve Ci servono Abbiamo sbagliato Ci servono Allora Possiamo offrircene 4 Ok Ma di questi Ce ne possiamo offrire Solo 5 Ok Come potete vedere Come potete vedere La bilancia Sta a 82 E 95 Il valore che c'ha E 102 Ok Sono due le ipotesi Se noi possiamo L'unica cosa Che vi consiglio E Se noi possiamo Dargli Altri due di questi Perché praticamente Fanno 29 Veramente Ce ne servirebbero Due di questi Ecco qua Ecco Due di questi Noi andiamo bene Per forza così Bisogna fare Ho 6 di questi Qua Però 112 e mezzo Questo 112 e mezzo Ok Possiamo ovviamente Togliere Quest'altro oggetto Perché ovviamente Questo oggetto Ha un valore Di 4 e 75 Allora togliamo Togliamo un altro poco Ecco La bilancia Vedete Vedete la bilancia È perfettamente orientata Ok È piana È piatta Quindi praticamente Il trade Sta fatto Sta fatto bene Questo è il trade Esatto Avete capito Poi ovviamente Se noi poi Decidiamo di acquistare Altri dieci di questi Per i voli Lo faccio vedere L'ultima volta Dieci di questi Altri dieci di questi Abbiamo un controvalore Di 202 Ora per Ricompensare Sto valore Possiamo Dargli Decidiamo di dargli Tutto questo Questo è fatto Diamo ce ne 4 10 Eh 10 quindi Esatto Allora 10 E fanno 162 Come potete vedere Anche se ci diamo Tutto questo Non è sufficiente Per darcelo Per fare questo scambio Perché lo scambio Non è Non può essere fatto Allora l'unica cosa È dargli anche Quest'altro tipo di oggetto Qua Ok Ok Ammettiamoci Ne cominciamo a mettere 10 195 Ancora poco Dobbiamo ancora inserire Mettiamo altri 2 205 Andiamo a decrementare Un altro poco Se per ipotesi 200 225 Allora praticamente Era esatto Quindi dobbiamo Dobbiamo di nuovo Aggiungere Perché Giustamente Vedete Noi offriamo 200 Lui offre 202 Quindi per forza Dobbiamo Dobbiamo aggiungere Un altro valore Di 4,75 Andiamo uno solo Ok Mettiamo il segno di più E lo scambio E lo scambio può essere E lo scambio può essere Attuato Cioè Questa situazione Io Infatti poi Clicchiamo Facciamo l'ipotesi Di cliccare qua Puso il scambio Voi ve lo faccio vedere In diretta E ovviamente Gli oggetti Ce li ha dati Questo è tutto Spero di essere stato chiaro Arrivederci Grazie